Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. Si segnala la chiusura del raccordo FIPILI con le Salvetti in direzione a sud per ripristino incidente già risolto, riapertura in programma per le 23 di oggi. A Firenze a causa dei lavori concomitanti di Publiacqua l'interruzione della linea T1 da Fortezza a Leopoldo prevista per oggi, dalle ore 21.30 fino alla fine del servizio, è stata rimandata. In via Lucellai, angolo via della Scala, disagi per la presenza di materiale incarreggiata. In piazza San Giacopino, angolo via Cristofori, riduzione di carreggiata per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!